Da Radio Speranza va ora in onda, APG Time a cura della comunità Papa Giovanni XXIII. APG Time, Radio Speranza in blu, la radio diocesana di Pescara Penne, carissimi radioascoltatori vi danno il benvenuto a questo 56esimo momento insieme. Oggi avremo un'altra puntata stupenda, forse stiamo per vivere un primato qui sulla Radio Speranza perché abbiamo addirittura, udite udite, il carissimo direttore della radio Davide De Avicis. Ben trovato Cristiano, ben trovato a tutti i radioascoltatori, grazie per questa opportunità, per questa bella sorpresa. Ecco, particolare no direttore? Molto, molto particolare, è una prima volta per me di essere intervistato in questa bella rubrica che abbiamo voluto fortemente qui in radio e che ci racconta la bellezza della comunità Giovanni XXIII e quindi è bello fra parte di questa bellezza condividere questo percorso addirittura da protagonista. Certo, bene, bene, grazie, veramente siamo contentissimi e chiaramente ci diamo del tu, ci conosciamo da anni. Davide, ci conosciamo da sempre. Ecco, Davide, io ti ringrazio a nome mio ma veramente a nome di tutta la comunità Papa Giovanni XXIII perché veramente attraverso questa possibilità di questo momento insieme quindicinale ci hai dato la bella possibilità di parlare della vita intanto, di vita vera, vissuta nella fede, ma a volte anche no. Ma soprattutto ecco la possibilità di parlare della comunità Papa Giovanni XXIII, questa bella vocazione di cui ebbe una grande intuizione Don Oreste Benzi, il sacerdote di Rimini, il nostro fondatore. E quindi veramente grazie, grazie, grazie. Ecco, Davide, intanto voglio chiederti subito di presentarti, come facciamo di solito, ai nostri redeascoltatori. Chi sei? Eccetera, eccetera. Ecco, dici tu. Sì, con piacere, io sono Davide Di Amicis, ho 37 anni, vado per i 38 oramai il prossimo 9 novembre, quindi purtroppo questo traguardo si avvicina. Insomma, sono di Montesilvano, in provincia di Pescara, lavoro qui a Pescara come direttore di Radio Speranza oramai da quasi tre anni. Questa avventura è cominciata il 7 settembre del 2020. Sono giornalista professionista, è anche per questo che sono qui direttore di questa emittente radiofonica diocesana, nella quale sono anche cresciuto tanti anni fa, quando da volontario davo una mano, anche io qui in radio, e ne ho acquisito un po' la passione standoci. Ero già giornalista diocesano dal lontano 2006, ho collaborato per anni con il Messaggero, anche con la redazione di Pescara, di questo importante quotidiano, e quindi dopo 12 anni di questa esperienza, anche come giornalista diocesano alla porzione.it, il nostro notiziario online diocesano, è nata questa avventura anche in radio, a Radio Speranza, grazie all'Arcipescovo Valentinetti, che ringrazio ancora per questa opportunità, che mi ha voluto fortemente per rinnovare questa radio, che cambiava sede e voleva cambiare, nelle intenzioni del nostro Arcipescovo, anche un po' i contenuti. Certo, bene, e ringraziamo anche noi. Saluto anche il mio predecessore Don Remo Chiuditti, ovviamente, che per 40 anni ha portato avanti la radio, lui l'ha aperta, l'ha fondata, e quindi se io sono qui, anche grazie a lui che l'ha portato avanti dall'80 ai giorni nostri. Certo, e ci riuniamo anche noi ai saluti per Don Remo e l'Arcivescovo, Monsignor Tommaso Valentinetti, e poi Davide, volevo anche aggiungere, tu parlavi di passione, veramente si respira questo in radio, veramente la tua passione, la tua professionalità, ma poi l'autenticità, si vede che ci stai bene, che è proprio un lavoro che ti piace, quindi non lo chiamerei neanche lavoro, ecco, veramente una missione, no? Si può chiamare così? Beh sì, c'è il famoso proverbio che dice, fai quello che ti piace, non avrai lavorato un solo giorno, è un po' quello che è avvenuto per me, che avviene per me ogni giorno, perché effettivamente è una professione che ho scelto di fare scoprendo di saperla fare, quella del giornalista e poi quello del giornalista radiofonico, come in questo caso, e quindi è una mia passione, io ho la fortuna di fare quello che mi piace, cioè non è un ripiego, ma ci ho creduto fortemente, devo dire, dopo anni di sacrifici, dura gavetta, i primi anni gratis, insomma, il lavoro insieme allo studio, tanti sacrifici, non ho voluto fare altro, ho evitato altre distrazioni, altri lavori che magari potevano farmi cambiare idea, strade più comode, più facili, le scorciatoie, ho voluto fortemente, grazie alla mia famiglia che mi ha appoggiato, fare questo lavoro, è stato difficile iniziare, ma poi a distanza di anni, insomma, mi ritrovo tutto sommato 37 anni, direttore di un'emittente radiofonica, con 40 anni di storia, insomma, qui in Radio Cisilio Pescara. I risultati si vedono, è veramente, di nuovo, complimenti, anche perché Radio Speranza, ecco, io la vivo un po' da vicino, veramente trasmette un dinamismo, una serietà, una professionalità, una bellezza veramente esemplare. Noi abbiamo cercato in questi anni di rispettare quello che è stato anche il volere, quello che è l'insegnamento, l'indicazione che ci ha lasciato Papa Francesco, cioè di realizzare una chiesa in uscita, e quello che ho pensato dal primo momento, essendo qui direttore della radio, è quello che ci chiede a sua volta anche il nostro orcivescovo, e quindi ho cercato, con la mia esperienza, di portare la radio sul territorio, con le nostre rubriche diocesane più importanti, tra cui c'è anche APG Time, appunto, che racconta questo spaccato di chiesa diocesana, che è la comunità Giovanni XXIII, con tutte le sue anime belle che ne fanno parte, come te. Grazie, grazie. E poi la rubrica della Caritas, che ci aiuta a parlare di marginalità, e poi portare anche il territorio nella chiesa, attraverso le rubriche di associazioni di categoria, presenti qui sul territorio pescarese, pescarese, come ad esempio la Coldiretti, che ci parla di enogastronomia, di qualità, o l'Italia Nostra, che per esempio ci parla di ambiente e tutela del territorio. Bene, bene. Insomma, questo è l'obiettivo, ci stiamo riuscendo, grazie alla mia esperienza passata, insomma, abbiamo rinnovato un po' le cose. Grazie Davide, e quindi la collaborazione con la comunità Papa Giovanni XXIII, ecco, nello specifico, come nasce? Beh, questa collaborazione nasce dal desiderio mio proprio di raccontare meglio la nostra chiesa, cioè di fare parlare coloro che la compongono, ma non tanto i sacerdoti, uscire un po' fuori dal palazzo, ecco, questa è una radio che non deve essere una radio da sacristia, ma deve essere una radio che sta tra la gente, sempre questa chiesa in uscita, insomma, e quindi raccontare anche quello che avviene nella chiesa, ma fuori dai ricinti, delle parrocchie, degli episcopi, ma a vedere quello che accade proprio sulla strada, quello che è il lavoro vero che si fa, perché quella è la testimonianza vera che avvicina poi la gente a Dio e alla chiesa, cioè chi si sporca davvero le mani per gli altri, per il prossimo, e come fa la comunità Giovanni XXIII, tu da ormai più di vent'anni, io ti ho seguito dai primi passi, avvicinati a questa sfida, a questa realtà, visitando case famiglie, e poi a prendone una, da prima a Collecorvino, poi a Pescara, insomma, questo tuo accogliere gli ultimi con gratuità, insieme a tua moglie Simona, con i tuoi figli, con grande sacrificio anche, oltre che con grande passione, e questo è un insegnamento grande, come si fa a non raccontare quindi il tuo impegno e quello di tanti altri tuoi confratelli che in tutta Italia, abbiamo visto in queste puntate, davvero si sporcano le mani, si danno da fare nella gratuità, tra l'altro, vivendo di provvidenza, per aiutare il prossimo, io credo che questo oggi sia rivoluzionario, in una società materialistica, liquida, che guarda solo al benessere, e al denaro, ai comfort, insomma, invece lasciare i propri comfort, uscire dalla propria comfort zone, come si dice, come avete fatto tu e tua moglie Simona, per aiutare il prossimo, beh, penso che questo sia davvero una cosa rivoluzionaria da raccontare, e non a caso gli ascolti della tua trasmissione ti premiano, perché sono veramente record. Bene, bene, grazie, grazie Davide. E volevo chiederti, ecco, all'inizio dicevamo che siamo giunti alla cinquantaseiesima puntata, ecco, sono più di due anni, no, di questa, di APG Time, e volevo chiederti, ascoltando un po' tutte queste puntate, ecco, cosa ti rimane poi, in fondo, in fondo, di questa nostra comunità? Mi rimane la testimonianza di una grande famiglia, sparpagliata in tutta Italia, che si adopera per aiutare chi è nel bisogno, ma al tempo stesso anche nel dare un'opportunità a chiunque voglia dare una mano, a chiunque voglia entrarvi. Abbiamo visto tante testimonianze anche dal servizio civile, di tanti volontari che comunque fanno parte della galassia comunità Giovanni XXIII, pur non avendo magari una realtà specifica, ma che comunque danno una mano e si impegnano. o semplicemente la appoggiano e la testimoniano. E quindi questa è una grande testimonianza dell'apertura di questa realtà, e quindi questo è un grande insegnamento, una grande testimonianza che noi rilanciamo attraverso questo spazio. Resta proprio questo, una grande famiglia sempre aperta, che cresce sempre di più perché è aperta e accogliente. Bene, quindi possiamo un po' riassumere in comunità e condivisione, no? L'essere comunità. Assolutamente, è una comunità che accoglie e condivide. Benissimo, all'interno di una vita condivisa, insomma, sia all'interno che all'esterno. Assolutamente, bellissimo. Bene, e Davide c'è una puntata tra le altre, senza far torto a nessuno, ma c'è una puntata tra le altre che ti è rimasta maggiormente nel cuore? Sì, mi ricordo quando tu hai intervistato una figlia di una coppia che è qui nel Pescarese, a Città Sant'Angelo, ha una casa famiglia. Marta, vero? Marta Cantelni, che salutiamo. Marta Cantelni, che salutiamo, carinissima. Marta, ma mi ha colpito perché, ringrazio te per questa idea rivoluzionaria, perché nella tua trasparenza, nella vostra grande onestà, non ti sei limitato a parlare solo di ciò che va, di quello che funziona, ma anche di ciò che non va e di quello che è il disagio magari di chi si trova tra virgolette imposta questa scelta, come può essere il figlio naturale di una coppia che decide di aprire una casa famiglia e poi si ritrova di punto in bianco dei fratelli di comunità, diciamo così, fratellini, sorelline, non proprio scelti e magari anche un po' complicati da gestire. Certo, certo. Bene, bene, grazie. Allora, Davide, mandiamo la pausa musicale? Sì, allora questa è una canzone che questa volta, diciamo, lancio io, di solito lanci tu, eccezionalmente lo faccio io, perché è una dedica che faccio a te, che sei un amico di sempre, essendo anche noi parrocchiani, discendendo dalla parrocchia di Sant'Antonio di Padova in Montesilvano, noi siamo nati e cresciuti, e una dedica che faccio anche alla comunità, Papa Giovanni XXIII, perché davvero questa è un'amicizia che è nata qualche tempo fa, ormai tre anni fa, ma che è ormai consolidata, dai. Consolidata, che andrà avanti per sempre, e quindi saremo amici per sempre, come lo sono i bu, che in questo 2023 hanno rilanciato questa canzone, questa loro grande hit, Amici per sempre, che andiamo ad ascoltare. Benissimo. Benissimo. Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano, ci separano e si oppongono. Si può essere amici per sempre, anche quando le feste finiscono, e si dopo no, incantarsi di più. Si può anche venire alle mani, poi dividersi gli ultimi sticcioli, non guardarsi più, non scordarsi mai. Gli amici ci riaprono gli occhi, ci capiscono meglio di noi, e ti mettono davanti agli specchi, anche quando non muoi. Due campioni del mondo, poi non male di cuori, per gli amici rimani chi sei, sarà il vento che viene a saltarmi. Se ti perdi, puoi alzare i barriere, litigare con Dio, cambiare famiglie e città, stampare il mio foco e il tradizio, Amici per sempre, brano pop rock dei Poo. Ecco, grazie ancora Davide, ricordiamo che siamo qui in studio con il nostro direttore, il direttore di Radio Speranza in Blu, Davide De Amicis, che ci ha appena dedicato questo brano dei Poo, Amici per sempre, a me e alla comunità Papa Giovanni XXIII. Grazie Davide, hai spiegato precedentemente perché no ci dedichi questo brano, proprio per l'amicizia che ci lega da una vita. E ci legherà ancora per sempre, questa è una preghiera, un auspicio, ma anche una certezza. Benissimo, benissimo. Allora, domanda a Bruciapelo. Davide, abbiamo parlato di professionalità, di autenticità, di dinamismo di questa radio. Ecco, come vivi la relazione con i tuoi collaboratori? Devo dire, questa è stata una grande gioia ed è una cosa che mi ha molto facilitato nel mio compito di direttore perché è una realtà che già conoscevo, quindi era nata già un'amicizia in passato con il nostro staff, Massimiliano alla parte giornalistica, redazione, Natascia in regia, che salutiamo entrambi, e i nostri collaboratori, quindi molti li conoscevo già. Insomma, quindi questo ritorno nel 2020, tra l'altro dopo il lockdown, dopo la pandemia, quindi è stata una ripartenza, davvero un rilancio, una riapertura per me in grande, è stata facilitata. Anche una sfida difficile che mi ha dato non poche tensioni all'inizio, perché è una grande responsabilità, è una responsabilità nuova, però è stata facilitata da questo rapporto sostanzialmente. Questa è una piccola famiglia, quella di Radio Speranza. Certo, certo. Tra l'altro siamo in una chiesa riocesana, quindi per noi, ecco, prima della colleganza c'è proprio la fratellanza, potremmo dire. Bello. E siamo poi, per carità, ovviamente rispettosi di tutto quello che è l'ambiente lavorativo, e quindi ci diamo i nostri consigli, le nostre indicazioni, ci rimproveriamo. Io a loro, ma anche loro a me, quando insomma mi dimentico. Come in tutte le famiglie, certo, certo. Ovviamente ci sono queste realtà, ma in un contesto veramente bello, familiare, dove c'è tanta franchezza, ma anche tanta fratellanza e voglia di condividere anche qui. Molto bello, Davide, grazie. E poi volevo chiederti, invece ecco, questa vita in radio, no, questa missione di cui parlavamo anche prima, ti aiuta, e se sì, come ti aiuta ad avvicinarti al tuo Gesù? Mi aiuta perché è una missione questa, è il mio modo di portare la parola. La missione che mi aiuta, mi consente di essere in qualche maniera testimone della fede mia, che io metto in questo lavoro, nella scelta dei contenuti da riproporre, nella scelta delle persone da coinvolgere, ed è una bella responsabilità, perché per quello che rappresentiamo, noi comunque rappresentiamo la chiesa locale, qui a Pescara Penne, quindi la scelta dei contenuti, la scelta delle persone, attraverso i vostri cuori, la vostra voce, quello che esce è anche quello che esce dal mio cuore, dalla mia mente, e quindi per me il mio lavoro, farlo quindi oggi, si vuol dire proprio anche portare il lieto annuncio, diffondere un po' quella che è il messaggio di nostro Signore. Ho la fortuna, essendo direttore di una radio diocesana, di questa radio, ho la fortuna di poter fare entrambe le cose, quindi il mio lavoro si sovrappone anche il mio ruolo di evangelizzatore, di missionario, tra virgolette, che ho fatto anche prima, in passato da giovanissimo, quando ero educatore in Nazione Cattolica, nell'ACR, ora lo faccio anche attraverso il mio lavoro, questo è un privilegio che ho, tutti noi lo siamo nei nostri ambienti, in realtà lavorativi, domestici, scolastici, universitari, e questo è il mio, diciamo. Quindi oltre a tanta professionalità, tanto, ma tanto cuore, insomma, bene. Tanto cuore, c'è tutta la mia esperienza, diciamo, di vita e di fede, che attraverso voi spero che arrivi a quanta più gente possibile. Bene, grazie ancora Davide. Adesso, ecco, una domanda un po' scomoda, se vogliamo. Se vuoi condividere con i nostri radioascoltatori un qualcosa di positivo che ti è rimasto della nostra comunità Papa Giovanni XXIII, ma perché no, anche un qualcosa di negativo, se c'è. A te la parola. Di positivo, la famiglia della comunità Giovanni XXIII. L'essere famiglia, insomma, che si respira. L'essere famiglia, ma anche il fatto che non vi fermate davanti a nulla. Voi accogliete situazioni anche difficilissime. Io ho visitato tanti anni fa con te alcune realtà. Certo. Sono rimasto veramente a bocca aperta. Anche un po' scioccato. Certo. In negativo all'inizio, perché ho detto, caspita, ma qui è difficilissimo. E poi in positivo per dire, ma questi sono eroi. Scusa se ti interrompo, Davide, se non ricordo male, visitammo Casa Famiglia Manuela in quel di Grottamare. Grottamare, esatto. Nelle Marche. Andammo lì proprio con la Sene Cattolia, perché c'era un progetto, un'iniziativa. Insomma, tu veniste con noi proprio per visitare la realtà, perché stavi un po' facendo chiarezza nel tuo cuore, stavate facendo discernimento. E insomma, anche dopo quell'esperienza probabilmente avete detto il vostro sì. E insomma, sono rimasto veramente all'inizio un po' spaventato, impressionato, ma poi affascinato da questo grande cuore che non è da tutti, veramente da pochissimi. Per pochi eletti fare una missione del genere, così totalizzante. Sì, sono d'accordo. Infatti, anch'io in quel periodo rimanevo spesso scioccato nel visitare le nostre realtà e approfitto per salutare anche Claudia e Gioacchino, i carissimi Claudia e Gioacchino. Un grande abbraccio. Bene, Davide, invece di negativo c'è qualcosa di migliorabile o che magari ti viene in mente ma questa cosa però non la condivido? Trovare aspetti negativi è proprio difficile. Un aspetto negativo da migliorare, forse in una grande famiglia, essere un'unica grande voce, un solo grande corpo non è sempre facile. Quindi forse la comunicazione, armonizzare ancora di più in una grande famiglia come la vostra che non ha un'organizzazione verticistica, piramidale, ma è più concentrica perché si condivide però al tempo stesso è più difficile anche tenere insieme le cose. Quindi sicuramente forse una delle vostre sfide è anche quella di tenere insieme le varie realtà sparpagliate ovunque e insomma essere un'unica sola voce è un unico grande corpo ma già lo siete ma per chi come voi condivide alla pari tutto diventa ancora più impegnativo. Certo, comunque abbiamo ecco il dono di seguire l'obbedienza ai nostri responsabili però ecco chiaramente poi quando si è in tanti giustamente qualche fatica ci può essere. La fatica che è anche una virtù perché poi siete tutti quanti responsabili alla pari e questa è una grande sfida perché nei contesti piramidali, verticistici, è più facile obbedire stare sotto le indicazioni perché non ci sono delle cariche. Invece da voi dove ci sono dei responsabili. Ci sono comunque dei ruoli certo però poi si è tutti i fratelli che si gestisce e si sta insieme e si aiuta al prossimo davvero e lì non è facile perché c'è tanto spirito di iniziativa tanto cuore però il cuore anche lì va gestito perché poi c'è chi va avanti e chi resta indietro è una bella sfida. Come dicevamo prima in tutte le belle famiglie c'è poi qualcosa da sistemare che può nascere ma tutto per il bene. Tutto per il bene e comunque vi fa onore che anche da questo punto di vista vi mettete in gioco dando spazio a tutti. Bene, bene, grazie Davide. Un'altra domanda anche perché il tempo stringe. C'è qualcosa invece di Donoreste Benzi che vuoi rimandare ai nostri redascoltatori? So che hai vissuto anche Donoreste Benzi in vita quando venne a Pescara. Ho avuto la fortuna pur essendo ancora molto giovane, credo fosse il 2006 c'era già il nostro vescovo Monsignor Valentinetti e ricordo all'inizio quindi del suo episcopato evidentemente una marcia contro la prostituzione che partì da Largo Monsignor Italofebo e arrivò fino a Piazza Unione e alla fine lui parlò in Piazza Unione e ci fu un grande messaggio di solidarietà verso le donne, verso queste ultime che sono proprio le donne di strada che sappiamo che non scelgono questa vita ma che purtroppo gliela impongono perché vengono ingannate e come voi ci avete raccontato anche attraverso il vostro servizio che fate sul lungomare la vostra unità di strada che ha salvato fattivamente, ha tolto fattivamente delle donne dalla strada, ricordiamolo e quindi mi è rimasto impresso questo grande messaggio di coraggio, di solidarietà ma anche di fermezza contro la tratta, contro questo fenomeno drammatico ma anche veramente che fa vedere tutta quella che è la cattivella che a volte può esserci nell'uomo che sfrutta le donne veramente un istinto che poi sembra quasi non essere più umano, ma bestiale bestiale, davvero mi hai tolto la parola di bocca? fa emergere un po' la bestialità che c'è nell'uomo quando sfrutta davvero un fratello e una sorella per questi scopi, per poi arricchirsi e poi prendere in giro queste persone che poi non hanno più, smarriscono se stessi, smarriscono la propria vita ma a voi per fortuna, grazie a Don Oreste che per primo lo ha fatto a Rimini ebbe questa intuizione ebbe questa intuizione grandissima, voi lo fate in tutta Italia ecco questa è una grande missione di Don Oreste e Benzi e lo ringrazieremo per sempre perché lui ha cambiato il volto della chiesa infatti Davide, ai nostri radioascoltatori che messaggio senti nel cuore e dal cuore di lasciare? io lascio un messaggio di speranza, noi siamo Radio Speranza davvero il nostro obiettivo è quello di dare alle persone una chiave di lettura per andare avanti meglio un po' meglio di come si era magari fino a prima di accendere la radio è un tempo difficile dove non ci sono certezze, tutto il relativo si naviga a vista siamo tutti un po' in crisi, tutti un po' più poveri ogni giorno che passa, forse a livello materiale ma noi cerchiamo di arricchire anche con la nostra radio, con i nostri contenuti, con il nostro messaggio cerchiamo di arricchire il cuore ecco, e di dare un messaggio di forza, di incoraggiamento ad andare avanti ecco, nessuno è solo bene voi non siete soli cari ascoltatori perché ci sono realtà come Radio Speranza o come la comunità Giovanni XXIII che davvero vi vengono a trovare, vi vengono a cercare e vi danno una parola di speranza e quindi stiamo insieme, stiamo uniti, non siete mai soli ecco, c'è sempre un modo per ritrovarci quindi state con noi, state con la comunità Giovanni XXIII state con Radio Speranza, che non sbagliate mai certo, grazie Davide, è veramente un messaggio molto profondo perché più volte abbiamo ricordato nelle nostre trasmissioni che spesso la povertà più grande è quella proprio della solitudine ecco, proprio per testimoniare che tutto concorre al bene utilizziamo, utilizzate, mi faccio anche io portavoce anche uno strumento come la radio Radio Speranza, che dà la possibilità di ascoltare messaggi appunto come dicevi tu di Speranza voi accendete la radio, non dovete fare nient'altro fate le vostre cose, il vostro lavoro, le vostre faccende di casa e il tempo scorre più felicemente ci siamo, vi facciamo un po' di compagnia e chissà che magari, molto umilmente non ti lasciamo anche qualcosa di positivo per riprendere in maniera diversa certo, magari ascoltando anche a PG Time soprattutto, beh insomma, se ascoltate Cristiano troverete non solo esperienze di vita veramente importanti che vi arricchiscono il cuore ma soprattutto trovate un sorriso che vi stampate addosso e non vi passa più perché Cristiano è veramente di una simpatia e di un'umanità incredibile quindi siamo contenti di averlo con noi troppo gentile, ti ringrazio e dai diamo un grande saluto ed un arrivederci a tutti i radioascoltatori di Radio Speranza in Blu da Radio Speranza abbiamo trasmesso a PG Time a cura della comunità Papa Giovanni XXIII non c'è fallimento non c'è fallimento se tu mi porti dentro perché non c'è fallimento non c'è fallimento non c'è fallimento ed eccomi qua